Gentili spettatori di Appallo 2, siamo qui per intervistare un barbone che ci avete richiesto voi. Venite con me. Senta, voglio dare questi due euro perché secondo me se li merita. Io sono un giornalista, diciamo. Sono un giornalista. Vabbè, vabbè, non la riprendiamo, non la riprendiamo. Stiamo riprendendo, stiamo riprendendo. Sì, 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 ma tante spettatori. Ma le volevamo chiedere, ma, cioè, cosa si prova a essere qui in questa situazione? Non vuole lasciare dichiarazioni. Non vuole lasciare dichiarazioni? Però dico, secondo lei la gente dovrebbe, cioè, dovrebbe dare comunque un po' di carità oppure no? Un po' di carità. No? Un po' di carità darla comunque a persone. Quindi... È un progetto scolastico? Dovete passare. Grazie mille per aver visto questa intervista. Alla prossima. Arrivederci. Grazie. Grazie.